Ciao a tutti, ha paura dei suoi sentimenti e di innamorarsi? In questo video voglio spiegarti cosa fare se incontro un uomo che ha paura dei suoi sentimenti e di innamorarsi. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni in seminario del vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, veniamo al tema e il tema è proprio questo. Il tema è proprio quello del voler, diciamo, di avere a che fare con un uomo che ha paura dei suoi sentimenti, ha paura di innamorarsi. Come fare a gestire questa situazione per cambiare le cose, per far sì che possa innamorarsi, per far sì che possa coinvolgersi. Allora, cosa fare quindi contro la paura dell'impegno? Perché gli uomini spesso hanno paura di impegnarsi? Talvolta capita che dopo un inizio incoraggiante di una relazione, una donna può trovarsi in difficoltà. Può trovarsi in difficoltà quando il suo partner si allontana un po' o comunque prende le distanze, dice che ha paura dei suoi sentimenti, ha paura di innamorarsi e non desidera innamorarsi di nuovo. Per cui propone, diciamo, un rapporto, come possiamo dire, più easy, un rapporto più meno coinvolgente. E spesso succede che la donna, se lei è coinvolta, tende ad accettare questa situazione, tende ad accettare proprio la situazione. Questo ovviamente non è positivo perché fa sì che praticamente tenderà ad innamorarsi sempre di più e a nutrirsi di negatività, perché tieni presente che se tu accetti una situazione che di tuo non ti piace, tenderai a stare sempre peggio, tenderai a vivere sempre peggio le tue relazioni, tenderai ad essere sempre più, diciamo, come possiamo dire, sempre più innamorata, ma non attraverso il bene, perché tieni presente che noi ci innamoriamo, il pathos significa patimento, il pathos significa proprio patire una relazione. Quindi questo devi tenerlo presente, è un qualcosa che si può manifestare in diverse modalità, e se tu vuoi riuscire a superare non devi di fatto accettare questa situazione. Per capire bene gli uomini devi studiare il loro atteggiamento, diciamo, durante il processo di seduzione. Un uomo durante il processo di seduzione, quando vuole conquistare, cerca di, diciamo, spesso compiacere il proprio partner, pensa al fatto di riuscire ad ottenere, diciamo, delle gratificazioni, però se tu poi arrivi a gratificare, in realtà perdi potenziale, perché l'unico modo per acquisire potenziale è quello di poter ottenere dei risultati positivi della tua vita, poter ottenere l'unico modo per acquisire potenziale è di somministrare delle tensioni emotive. La tensione è un concetto fondamentale, soprattutto il concetto di distonia. La distonia è ciò che mi differenzia tra ciò che ho e ciò che vorrei avere, tra ciò che desidero e ciò che ottengo realmente. Quindi tu devi amplificare le queste distonie, non devi gratificare, non devi essere gratificante, devi essere invece prevalentemente penalizzante, devi essere una donna che sa dare penalizzazioni, non che dare gratificazioni. Questo è un punto fondamentale, perché se dai gratificazioni non riesci a ottenere nessun risultato, mentre invece nei tuoi confronti devi imparare a darti emozioni. Le emozioni che proviamo, che provi, tieni presente che influiscono sulla tua autostima, sulla percezione che hai di poter raggiungere i risultati desiderati, influiscono in pieno sul funzionamento del tuo cervello e possono avere anche, diciamo, delle, come dire, delle ripercussioni sul tuo corpo. Alcune emozioni ti fanno percepire destinata al fallimento, soprattutto quando tu accetti situazioni che non ti piacciono e accetti situazioni negative. Quindi tu devi imparare a darti emozioni positive, emozioni che ti piacciono. E un'emozione positiva può anche essere l'orgoglio, l'orgoglio di non prendere in considerazione questa persona se non fa quello che tu vorresti, se non fa. Però come atteggiamento, diciamo, di fondo, devi dirgli, guarda, io non sono innamorata di te e quindi, sai, io non provo neanche questa passione perché devi svilire un po' il suo essere maschio, non provo neanche tutta questa passione e quindi non... Sì, possiamo essere amici, devi subito frenzonarlo. Quando intuisci che un uomo non si metterà, diciamo, in rapporto, non farà quello che tu vuoi, devi subito frenzonarlo, dirgli ti vedo come un amico, non ti vedo come maschio, ti vedo come una persona e, diciamo, e allontanarti un pochettino. Perché questo può sviluppare in lui la paura dell'abbandono. Ed è molto importante fargli sviluppare la paura dell'abbandono perché soltanto se svilupperà la paura di essere abbandonato, soltanto se svilupperà l'immagine della perdita, potrà iniziare a coinvolgerti. La cosa più deleteria da fare per te è quella di accettare la situazione che ti propone lui. Perché se accetti la situazione che ti propone lui, ti terrà il fatto, due cose, o tre, il fatto che lui non si coinvolgerà è che tu invece ti coinvolgerai e ti coinvolgerai in modo sempre più forte, andando contro a quelli che sono i tuoi valori, andando contro a quelli che sono le tue credenze, andando contro a quelli che sono i tuoi principi e non noterai di fatto veramente nessun risultato positivo nella tua vita. Quindi devi imparare a sbloccare un po' questa situazione, a renderla, diciamo, a rendere la situazione più interessante per te. Questo è fondamentale se vuoi imparare a conquistare, se vuoi imparare a sedurre. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ovviamente seguimi su Instagram, Massimo Terramasco, seguimi su TikTok, sempre Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra quattro livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione e seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!